Si riparte nuova stagione con il Prato pronto per il ritiro di Pieve di Pergo. Squadra sulla carta, ipercompetitiva, ancora affidata a Giancarlo Favarin. Visto l'organico a disposizione, questo è un Prato da alta classifica, almeno sulla carta. Noi come obiettivo abbiamo quello di poterci giocare a questo campionato fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Noi dobbiamo essere bravi e essere lì fino alla fine, poi dopo il posto in classifica si vedrà la fine. Però la società, che ringrazio perché ha fatto di tutto per mettere a disposizione i giocatori importanti, ha fatto quello che c'era da fare, sono stati scelti dei giocatori funzionali e con Leo abbiamo fatto un buon lavoro e sicuramente la squadra rispetto all'anno scorso parte dall'inizio tutta insieme, ci sono meno giocatori da valutare. Sappiamo in tutti i sensi che i giocatori conosciamo bene, le caratteristiche sono adatti per giocare a un certo tipo di calcio e di questo insomma ne siamo contenti, sicuramente saremo competitivi fino alla fine. È il Prato voluto e disegnato da Giancarlo Favarin? Sì, come sistema di gioco abbiamo preso i giocatori sicuramente più adatti, abbiamo preso i giocatori che già comunque giocavano in questo sistema di gioco, giocatori che hanno giocato addirittura insieme l'anno scorso come Mobilio e Colombi, quindi da questo punto di vista un po' di vantaggio ce l'abbiamo. Andiamo a cercare di capire come sarà il nuovo Prato, cominciamo dal portiere, il portiere sarà in quota anche se l'arrivo di Fontanelli è un'ottima alternativa puntando eventualmente sull'over. Sì, diverse soluzioni li importa perché siamo in attesa anche di un'altra quota, però siamo già a buon punto perché Nucci e Fontanelli sono delle garanzie e quindi partiremo in base alle partite, in base alle scelte delle quote, uno di loro. Difesa, due top player, Lorenzo Angeli e Francesco Colombini, ancora da definire invece gli esterni. Sì, gli esterni abbiamo deciso di metterci le quote, una è arrivata che è Lazzari, che era l'Aglianese nel 2004, però lì dobbiamo riempire le due caselle. È arrivato Campanelli in questi giorni, quindi mancano ancora due quote, una a destra e una a sinistra. In mezzo comunque abbiamo anche Cecchi, che ha fatto un grande campionato a Pugibonzi e Shanna Mecche, che l'anno scorso secondo me ha fatto un grandissimo campionato. A centrocampo invece forse manca ancora un tassello, oppure sei soddisfatto così, anche se la conferma di Soldani, l'arrivo di Trovate, la conferma anche di Ba, sono garanzie. Sì, il reparto di centrocampo un pochino sicuramente va appuntellato, però insomma abbiamo preso Trovale, che è un giocatore importante per questa categoria, l'anno scorso ha fatto un grande campionato. La conferma di Ba e Soldani sono due conferme, perché sono meritati sul campo, sono due giocatori importanti, ci danno diverse soluzioni. Sì, abbiamo secondo me un giocatore, tra virgolette, in prova come Cela, che è un giocatore che in questa categoria è un lusso. Speriamo vada tutto bene, perché è un giocatore che a noi servirebbe, però comunque c'è sempre un'alternativa di un giocatore, di un jolly come Nicoli, che può fare nella mezzala. Però insomma penso che a centrocampo o qualcos'altro lo andrebbe fatto. Intriga l'attacco invece. Colombi, a Diego Mobilio, Frugoli, il giovane Masini arrivato dalla Casa Tese, il giovane Petronelli, insomma le soluzioni non ti mancano, però davanti è una squadra che ha veramente giocatori pronti per far sognare i tifosi. Sì, abbiamo fatto delle scelte importanti davanti, giocatori come dicevo prima, che tra l'altro giocavano già insieme l'anno scorso, giocatori molto tecnici, giocatori fisici, giocatori che danno diverse soluzioni sul piano tattico, soprattutto anche gli eventuali ricambi in corsa, perché non ci dimentichiamo, abbiamo preso il suo aree, che è un attaccante che fa della velocità l'arma più importante, oltre che la tecnica. Quindi davanti, diciamo, dalla scintola in su siamo bene attrezzati. Allora, il Prato guarda in casa propria, però guardando ovviamente alle altre formazioni, ipotizzando un girone con Pistoiese e Ravenna, insomma mi viene da pensare che sarà davvero un bel duello. Ma sicuramente, non sono abituato a guardare nel caso degli altri, però io farei un girone tutti i toscani, Arezzo, Pistoiese, tutte quelle forti, così almeno ci misuriamo subito, e chi è più bravo vince, però insomma io penso che quello che noi dobbiamo fare è pensare innanzitutto di riportare un po' di tifosi allo stadio, di ricreare entusiasmo e chiaramente dare alla società la possibilità di aver fatto le scelte giuste. Che girone ti aspetti? Ma io penso che cambieranno poco, secondo me il girone sarà lo stesso, poi ci sarà dentro Pistoiese o qualcun altro, perché non so nemmeno dove il Livorno lo possono mettere, però sarei contento di fare qualche derby importante. Il Livorno è in eccellenza? Insomma, i mezzi per salire anche fuori dal campo non gli mancano.